Per chi non ci conoscesse, noi siamo il comitato feste. Aspettiamo tutti. Tutti insieme, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Ma noi non siamo un comitato feste. E' riduttivo. Noi siamo un gruppo di amici, un gruppo di folli. Che si diverte a fare qualcosa di buono per il nostro paese. Ci piace essere ambiziosi, ci piace provare a fare sempre di meglio. Ci piace osare, ci piace rischiare anche. Per noi ci piace non dormire la notte. Veniamo da 50 giorni di riunioni continue, di notti insonne, di litigate. Però alla fine siamo forti. Siamo forti perché per noi è stato un successo. Per noi è un successo. E speriamo, speriamo ovviamente che lo sia stato anche per voi. Speriamo che vi siate divertiti. Speriamo che la festa vi sia piaciuta. E speriamo che tornerete anche l'anno prossimo. Grazie. Certo, è stato un evento di una certa caratura molto grande. Quindi ci sono stati anche dei disagi, ce ne rendiamo conto. Però non è facile gestire un evento del genere. Quindi ci sono state delle difficoltà oggettive. E speriamo che possiate capire. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Grazie mille. Chiudo facendo dei dovuti ringraziamenti. Perché comunque se siamo riusciti ad organizzare tutto questo è soprattutto per merito di tutta la comunità casolana. Perché tutti partecipano attivamente all'organizzazione. Tutti si impegnano. Tutti contribuiscono. Tutti danno il massimo. Perché siamo consapevoli che questa festa che rappresenta la nostra identità rappresenta qualcosa di grande per noi. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutte le attività di Casoli che hanno contribuito. Grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito. Grazie a tutti. Cioè, grazie, grazie, grazie. Grazie. Un ringraziamento particolare l'ha fatto anche al nostro parroco Don Gennaro che ci ha sempre dato fiducia e sempre stato al nostro fianco e ci ha sempre difeso. Quindi grazie Don Gennaro. Grazie mille. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa... Senza mano. Grazie, grazie. Vi invitiamo ad assistere allo spettacolo pirotecnico che si terrà giù a Santa Reparata e sarà un bello spettacolo. Vi aspettiamo. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.